non lo so se si capisce ma sto tamburellando nervosamente sulla scrivania perché perché ci sono tre novità importantissime in casa microsoft ma purtroppo quasi nessuna di queste e positiva parleremo infatti nel video di oggi del futuro di windows 10 del futuro di windows 11 e dell'ultimo pargoletto nato in casa microsoft che si chiama microsoft pc manager si lo so ne avevamo già parlato in un video precedente ma è uscita la nuova versione che sembra essere una cosa buona oppure no andiamo a vederlo insieme ti senti pronto iniziamo diciamoci la verità windows 10 era un sistema stabile che funzionava bene faceva girare qualsiasi periferica e qualsiasi programma e non a caso microsoft stessa aveva decretato che sarebbe stato l'ultimo sistema operativo microsoft e che da allora in poi ci sarebbero stati solo aggiornamenti delle funzionalità e aggiornamenti di sicurezza ma naturalmente per motivi imperscrutabili come al solito c'è stato un improvviso dietro fronte è venuto fuori un non richiesto windows 11 e ci sono voluti un po di anni affinché questo sistema diventasse altrettanto stabile e altrettanto affidabile quanto era windows 10 ebbene la tarantella non è ancora finita e microsoft sta per presentarci alcune modifiche decisamente non richieste no grazie grazie no grazie prego no no eh prego grazie io so che lei me lo dà volentieri ma non voglio ah non fa niente io non bevo non fumo sto bene così se segui assiduamente il canale sarai già sicuramente al corrente di questa notizia che quindi ti riassumo solo brevemente per sommi capi perché è l'incipit di tutto quanto il resto del video di oggi nel 2025 come probabilmente già sai bene windows 10 non verrà più sopportato da microsoft questo significa che tutti gli utenti di fatto saranno costretti a migrare a windows 11 esiste tuttavia uno zoccolo duro di utenti che non intende assolutamente mollare l'osso e che preferisce rimanere con windows 10 ad oltranza ebbene sarà sicuramente un caso ma microsoft recentemente è venuta fuori con un aggiornamento che di fatto va a paralizzare circa la metà delle macchine che utilizzano windows 10 a distanza di un mese dall'uscita di questo aggiornamento microsoft non si è degnata né di pubblicare una patch né di pubblicare una qualsiasi soluzione seria a questo problema sarà un caso ebbene se a te ne piange sparta non ride perché anche gli utenti di windows 11 hanno un piccolo grattacapo da risolvere infatti è in arrivo come già saprai se segui il canale la versione 24 h2 di windows 11 che andrà ulteriormente a restringere le maglie leggiamo che cosa ci riporta questo interessantissimo articolo con il lancio di windows 11 microsoft ha stabilito requisiti hardware più rigidi rispetto al passato escludendo molti pc più vecchi dal poter eseguire il nuovo sistema operativo avevamo visto tuttavia che grazie all'aiuto di rufus era possibile bypassare questi requisiti ed installare con successo windows 11 anche su pc non supportati ma adesso la situazione cambia ora con il rilascio della versione 24 h2 prevista entro fine anno l'azienda sembra voler restringere ulteriormente le maglie è vero queste notizie le conoscevamo già ma questo articolo ci informa anche di quelli che dovrebbero essere i requisiti richiesti per i processori che a quanto pare rispetto alle prime previsioni sono stati decisamente abbassati come prevedibile andiamo a leggere in casa intel windows 11 24 h2 potrà essere eseguito con cpu compatibili con le istruzioni sse 4.2 che sarebbero poi gli intel core di prima generazione e successivi mentre in casa amd i processori compatibili debbono supportare le istruzioni sse 4a ovvero i fenomen di prima generazione e più recenti ora come vedi si tratta di caratteristiche in termini di risorse hardware decisamente inferiori rispetto a quelle che erano state fatte trapelare da microsoft circa un mesetto e mezzo fa e che avevano mandato nel panico una serie di utenti di windows 10 e di windows 11 odio fare il saputello ma devo dire che questa cosa l'avevo ampiamente prevista nel video precedente per come conosco microsoft è solita fare questo genere di annunci sensazionalistici e fare trapelare artatamente questo tipo di notizie semplicemente per creare un'aspettativa di un certo tipo e successivamente abbassare il tiro questa è una tecnica di marketing che serve semplicemente a farci accettare delle grosse modifiche semplicemente perché sono meno spaventose rispetto a quelle a cui ci aveva preparato per cui il mio consiglio personale è quello di attendere il flusso degli eventi e soprattutto mantenere il sangue freddo a questo punto sorgono spontanee due domande la prima è posso acquistare tranquillamente un nuovo computer dato che tutti i nuovi processori saranno sicuramente compatibili con windows 11 ebbene il mio suggerimento è di aspettare ancora perché ti ricordo che si tratta di notizie ufficiose e che potrebbero esserci variazioni dell'ultima ora la seconda domanda invece è come faccio se ho già un pc a capire se il mio processore è conforme o meno a queste richieste e andiamo a vederlo insieme la cosa più semplice che possiamo fare è utilizzare il windows repair toolbox di cui ti ho parlato in un video precedente che se ti fossi perso ti lascio qui in alto quello che dobbiamo fare è andare ad aprirlo e una volta aperto andremo ad utilizzare il nostro cpu z questo qui nel caso in cui non l'abbia ancora scaricato ti viene automaticamente scaricato sul pc e andremo a vedere all'interno delle istruzioni che questo nostro processore può eseguire che siano presenti le istruzioni di tipo sse 4.2 nel caso di intel ed sse 4a nel caso di amd se il tuo pc è in grado di eseguire queste istruzioni puoi essere ragionevolmente sicuro che la 24 h2 di windows 11 sarà compatibile con il tuo processore ma se pensi che le mattane di microsoft siano finite qui mi dispiace informarti che sei ben lungi dalla verità e ben ricordi diversi mesi fa microsoft aveva pubblicato una nuova app che si chiama microsoft pc manager e che si riproponeva di fare automaticamente e con semplicità una serie di operazioni di manutenzione per i pc windows 10 e windows 11 tuttavia questa app era stata ritirata da microsoft stessa perché aveva mostrato diversi bug ma adesso come ci informa la rivista hardware upgrade è uscita la nuova versione che sicuramente sarà molto migliore della precedente o come dicevo in apertura forse no andiamo a leggere che cosa scrive hardware upgrade microsoft ha rilasciato una nuova app ufficiale chiamata pc manager con l'obiettivo di ottimizzare le prestazioni ed effettuare semplici operazioni di manutenzione del computer windows 10 e windows 11 e fin qui tutto bene disponibile gratuitamente sul microsoft store in alcuni mercati l'app si propone come soluzione integrata per ottimizzare diversi aspetti dell'esperienza d'uso su desktop a questo punto con il nostro piccolo cuore gonfio di entusiasmo e felicità ci portiamo sul microsoft store e andiamo immediatamente a cercare microsoft pc manager eccolo qua è presente sullo store italiano apriamolo e andiamo a scaricarlo come vedi in pochi istanti viene scaricato un piccolo file sul nostro computer che dovrebbe andare ad essere il file di installazione del microsoft pc manager apriamolo e stranamente veniamo nuovamente reindirizzati sulla app del microsoft store dove tuttavia manca il pulsante download in ogni caso niente paura perché nella sezione downloads quella che trovi qui in alto del sito www.gentiluomo-digitale.it ti ho messo una versione funzionante e aggiornata all'ultima edizione di microsoft pc manager 2024 che potrai tranquillamente scaricare facendo clic sul pulsante file download se per caso inoltre non sai come utilizzare questo programma puoi fare tranquillamente riferimento al mio video precedente che per tua comodità ti lascio qui in alto anche se riguarda una versione precedente vedrai che sono abbastanza simili e altrettanto intuitivi ma se pensavi che microsoft almeno questa volta avesse fatto una cosa giusta probabilmente c'è qualcosa che dovresti sapere ebbene sì perché questo programma non ha fatto in tempo ad uscire che ha già ricevuto numerosissime critiche non ultima quella di tom's hardware un'autorevole rivista di settore che afferma che il nuovo windows pc manager rallenta i pc e ravvisa il motivo di questo rallentamento nel fatto che va ciecamente ad eliminare i file presenti nella cartella prefetch attenzione anche programmi come glary utilities vanno ad eliminare dei file temporanei ma grazie ad un algoritmo decisamente più accorto lo fanno in maniera più efficiente insomma è vero che si tratta ancora di una versione beta ma questo microsoft pc manager non piace tanto per me la corazzata con tionkin è una cagata pazzesca probabilmente dopo questo video sarà la volta buona che microsoft mi farà chiudere il canale e un pochetto ci avrà pure ragione però devo dire che ultimamente microsoft anche per colpa sua non ne sta imbroccando proprio una e questo è tutto mi pare e siamo arrivati al termine anche di questo video ma prima di congedarci c'è una cosa importantissima che devo fare e cioè un ringraziamento quello destinato proprio a te che hai guardato questo video fino in fondo mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima